Musica Allora, immagino di non poter uscire, esatto San Valentino domani 14 febbraio, oggi è San Valentino Cie Messaggi ricevuti uno Torniamo a casa insieme dopo scuola, voglio darti una cosa, magari hai già capito Hai deciso di passare il pomeriggio con Cie Mua Ehi star Ieri non è stato facile, non avrei pensato che sarei stato davvero colpito da un fulmine Grazie a quello shock però ho dimenticato che giorno è oggi È il 14 febbraio sai, non ho avuto tempo per prepararmi alla cosa È tutta la mattina che sono nervoso Ha troppa pressione, qualcuno mi aiuti Credi in te stesso? Un tempo lo facevo, quando vivevo in città Ma da allora ho ricevuto solo coltellate Diamine, se finisco per ricevere solo un cioccolatino dell'amicizia e solo da Teddy Non sopravviverei Eccolo, anche il giorno di San Valentino lui corre Risultati degli esami tra l'altro oggi Ehi, sono usciti gli esami Ah, lo rendo un momento della verità Andiamo a dare un'occhiata Sono il migliore della scuola Non c'è dubbio L'essere più intelligente che esista Hai preso il voto più alto Oh, sei un genio Star È fantastico, sono felice come se anche io avessi preso il voto più alto La pausa pranzo è quasi finita E ci ritornare in aula Ovviamente La Kashiwagi dice qualcosa su San Valentino Strano Dopo scuola Dopo scuola sono rimasti più studenti del solito Insomma Nessuno ha cioccolatini per voi personaggi terziari Andate via Nessuno vi vuole Andate via, terziari Ciao, ciao Scomparite Chissà com'è mai Kanji E perché mai Faccio il cazzo che voglio Anche se Forse qualcuno potrebbe darglielo Però io non te ne ho portato Ne sei sicuro? Non guardare noi Non guardare noi Vendate uno Oh my god, no Che carina Eh, esatto Rize porge tutti il cioccolato Oh no Mi chiede qui Perché siamo amici Niente perché proprio nasce Alla madonna Che cattiviera è sta scena Buona fortuna Non dirmi che Yukiko sa Non dirmi che Yukiko lo sa Gliel'ha detto L'hanno capito tutti ormai L'ha detto davanti a tutti Scappata via Allora Aspetta cazzo Più tardi devi andare Allora calmi tutti Perché qui finalmente Non so persona 3 Ma in persona 5 il San Valentino Tutto il rapporto che puoi avere con una Qualsiasi delle ragazze Non viene comunque mai introdotto nella storia Qui è bellissimo Uno si scopre Due lo fa davanti a tutti E tutti lo sanno che bello Tutti tranne Naoto e Teddy forse Però che bello che anche Yukiko gli ha detto Buona fortuna vai Ah Gesù Ah il mare Così Davanti alla monnezza Tu e C siete andati alla riva E' bello stare all'aria fresca Eh beh con quelli là davanti Patatina Dai fatemi vedere una scena di un bacio Per lo meno C'è tipo il cioccolato con pacchetti adorabili Beh si Finchè non ci hai messo della carne dentro Non ho capito Ma Però C'è un cioccolato C'è un cioccolato C'è un cioccolato C'è un cioccolato Eh beh ho visto Ma come No invece Ti sta benissimo E' adorabile Che cosa che siamo assieme Lo sapevo che l'avrebbe detto Non me ne frega niente Sei bellissima Non lo sei invece Dai un bacio Vecchi ricalci della madonna E due cosci incredibili Senti soltanto le onde Che si infrangono sulla battigia La scena di persona 4 Di San Valentino È molto più bella Di persona 5 Mi dispiace Senti il dolce profondo Del cioccolato Passi molto tempo con C Mi dispiace Cioè San Valentino vince Vince persona 4 Punto Oh Marie Hai freddo Ti vedo un po' tremante No Non era freddo quello Che ci fai qui scusa No sei tu in ritardo Sei venuta qui da sola Cos'è quella bomba Quando ho avuto Poi Choco Sceglie E si muove pure! Quella sala... ...concento? Non è così... ...non è che si può fare bene... Ok! Mi dimentico... Grazie, non devi scusarti! Eh? Oh... ...suna... ...stupido di odio! ...baca... ...un'altra... ...che cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Non si muove... ...non si muove... Ma no! Ma come? Percepisci il pericolo, ma hai già accettato il suo regalo... ...non si muove... ...eh... ...pensa a me! Ah, ok! Semmai che tu debba mangiarlo per forza! Nonostante l'odore il gusto è quasi normale... No, eh... ...non riesci nemmeno a smetterlo di mangiarlo! ... Ma sei scemo! Ma sei scemo! Ma... ...che... 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 ...che qui.. ...che... 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 ...che je kad allez... Oh, è nella confusione più totale, sta poverina. Senta di aver condiviso comunque anche il tempo con lei. Vuoi vedere che è un bacio? E sarà l'unico che vedremo effettivamente? Beh, se lei è una creatura della stanza di velluto non ci sarà mai un problema. Il dolce profumo del cioccolato è il passato del tempo con Marie. Sarebbe un problema se poi lo dicesse anche agli altri. Pare che Dojima sia via per lavoro e non possa tornare a casa. Oh, San Valentino san regala cioccolato al fratellone. Oh, che carina. Nanako ti crea un tipo di cioccolato molto popolare tra i bambini. Che carina. Ancora Tanaka. Che brava bimba. Ancora Tanaka. Ancora Tanaka. Ancora Tanaka. Che beberia. Ciao. Ancora Tanaka. Ancora Tanaka. Ancora Tanaka. No, certo Oh, ci dovremmo sposare allora Oh no, perché ho paura Perché ho paura di quello che succederà Ecco, lo sapevo Ma è uno slime Non ha il culo dove per qualche strano miracolo Ma è uno slime quello Sì, ma perché è fluorescente Nanako Chi è che l'ha insegnato a cucinare? Il tuo istinto affinato da un anno i scontri ha fatto scattare l'allarme Ma no No, che cosa ha fatto Gie? E allora li ha messi tutti e due Oh no Che cosa ha fatto Ecco mi hai messo nel casino quindi brava Naoto Nanako ti guarda con un'espressione d'attesa Dai Ski Eccolo Non hai alternative Tu m'hai M'hai provocato e io mo te magno Ce l'ho morto Ecco stanza di velluto arrivo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti